Conoscevo uno che per un graffio alla macchina ammazzò suo padre. Ora puoi dirlo a casa. Chiocca! Chiocca! Cazzo la rubremo. Ricola, i soldi per la spesa mi servono. Ma chi ti vale che c'è la banca? Ma chi ti vale che c'è la banca? Mi chiedono che c'è uno che non resta piccoli o che non uscì. Le condizioni ti sai. Ma sono scazzato la minchia di lavorare solo io! Hai un figlio dipendente che non fa una minchia da mattina a sera! Nicola, ma non puoi fare così, Nicola. Giova, ti tagliaste questa pancia? Ma perché mio marito è panzato? Si fa una domandina e si possono ottenere un poco di soldi. La cifra accordata è di 220 milioni. È impossibile Come scrivere con gesso Sulle nuvole Sì, ma quando arrivano i soldi Dobbiamo venircelo a prendere a Roma! Le coordinate bancarie È impossibile Sono con il nudo! Come credere Che ne esistano le pade Ma ci sono le tasse da pagare e tutto il resto. Ma che torre? Ma Tim, non ne vado! Non ne vado! Questo amore Sembra un fiore Ma che paulite? È morto! È morto, paulite! È un errore Tra l'amore Tra l'amore